E ora il primo maggio raccontato da uno degli attori italiani più amati, lo vedete Carlo Verdone, sentiamolo. Il primo maggio è e sarà sempre una festa fondamentale, di primaria importanza, la festa del lavoro, dei lavoratori. Quest'anno, questo maledetto 2020, è stato l'anno in cui il lavoro si è fermato, molti hanno perso il lavoro, molti sono in cassa integrazione, molti stanno male economicamente, sono organizzati male anche all'interno delle famiglie per tutto quello che è successo, è stato qualcosa di devastante. Però io vi voglio dire questo, io forse parlo anche un po' da privilegiato, però ho tanta riconoscenza verso i lavoratori perché io veramente penso ai macchinisti, agli elettricisti, a tutti quelli che mi stanno accanto su un film, quanto sono importanti, io senza di loro non potrei fare niente, non sarei nessuno senza di loro, senza il loro aiuto. Io mi rivolgo a tutti, tutti i lavoratori di questo paese che hanno sofferto tanto e vi dico non mollate, le pandemie finiscono, i virus a un certo punto terminano, cessano di vivere. I nostri genitori hanno passato guai peggiori con la seconda guerra mondiale, hanno passato anche la famosa pandemia della Spagnola che è stata devastante, ha fatto milioni di morti in tutto il mondo, passerà anche questo. Manteniamo veramente fiducia e speranza e poi ripartiremo tutti quanti con maggior carica, con maggior forza, con maggior determinazione, stanchi di aver subito quello che abbiamo subito, quello che avete subito soprattutto voi. Fatica, ansia, tormenti. Quindi il prossimo, io sono convinto che nel 2021 ci faremo gli auguri in maniera diversa. Vi voglio bene e vi abbraccio forte.